Buongiorno amici, oggi in questo breve tutorial andiamo a vedere un effetto di carta piegata realizzato con Illustrator quindi andiamo a vedere subito come fare, che facciamo prima, che mostro qui a spiegarlo andiamo su Illustrator, abbiamo file nuovo e diamolo ok abbiamo la nostra area di lavoro allora andiamo sullo strumento rettangolo e copriamo la nostra area di lavoro togliendo la traccia e diamo un colore, ad esempio questo, diamolo ok ora prendiamo ad esempio questo poster, a cui vogliamo applicare il nostro effetto di piegatura lo selezioniamo, lo trasciniamo all'interno, prendendo premuto Shift lo ingrandiamo in proporzione ok selezioniamo il rettangolo che avevamo creato prima andiamo su Oggetto, Blocca, Selezione in modo che la selezione sopra il nostro background non si muova ora, di nuovo rettangolo andiamo sul nostro poster e lo copriamo con un altro rettangolo perfetto a questo rettangolo diamo un colore nero e diamolo ok cosa abbiamo ottenuto? un rettangolo nero che copre il poster ora andiamo su Oggetto Tracciato Righe e Colonne impostiamo due righe e due colonne in base alle piegature, alla quantità di piegature che vorrete ricreare sul vostro oggetto diamolo ok cosa abbiamo ottenuto? abbiamo ottenuto quattro rettangoli separati vedete? selezioniamo il primo andiamo sullo strumento Trasparenza e diamo una trasparenza del 0% selezioniamo il secondo alla sinistra gli diamo un 5% terzo in basso, a destra sempre del 5% e l'ultimo lo selezioniamo gli diamo lo 0% abbiamo ottenuto già un simile un effetto simile piegatura vedete? si vede questa differenza presupponendo che la luce provenga da questa direzione per accentuare questo effetto possiamo andare sullo strumento innanzitutto raggruppiamo quello che abbiamo fatto con Command G per comodità poi strumento penna andiamo nell'angolo in basso a sinistra basso a destra scusate e creiamo questa sorta di triangolo chiudiamo il tracciato cosa abbiamo ottenuto? un triangolo nero lo selezioniamo effetto sfocatura controllo sfocatura andiamo sull'anteprima vedete? la sfocatura si crea qui potete creare la sfocatura che a voi piace di più aumentando diminuendo il raggio deve essere anche sfocatura erosimile diamolo ok così abbiamo ottenuto abbiamo ottenuto l'ombra però l'ombra qui va al di sopra del poster quindi lo selezioneremo tasto destro ordina porta dietro e abbiamo ottenuto l'ombra al di sotto del poster facciamo la stessa cosa anche di qua sul lato sinistro in lato penna creiamo questo triangolo effetto sfocatura controllo sfocatura anteprima ok selezioniamo triangolo appena creato tasto destro ordina porta dietro amici abbiamo già finito come vedete abbiamo ricreato un effetto secondo me abbastanza carino di questo poster piegato in quattro parti è molto semplice questo effetto perché non dobbiamo modificare l'immagine che noi abbiamo trascinato nei root creator quindi non dobbiamo andare a deformarla ma con un effetto ottico si crea questo appunto effetto di piegatura piccolo tips potrebbe esservi utile per qualche vostro lavoro se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace io per adesso vi ringrazio di averlo visto e vi aspetto al prossimo video ciao amici